Ciao amici youtube e benvenuti a questo appuntamento, oggi parleremo della settimana che va dal giorno 7 di novembre al giorno 13 di novembre. Questa è una settimana abbastanza importante perché ridefiniremo tantissimi aspetti della nostra vita. In questo video lo divideremo come al solito in due parti, la prima parte sarà un aspetto generale di quelli che saranno i transiti più importanti per questa settimana, nella seconda parte faremo l'oroscopo segno per segno, in basso nella descrizione trovate i tempi per il vostro segno solare e ascoltate anche la vostra luna in particolar modo, soprattutto questa settimana perché avremo un'eclissi abbastanza particolare e potete ascoltare anche il vostro ascendente. Allora iniziamo subito da lunedì giorno 7, la luna entra in toro, la luna in toro sarà protagonista proprio di un evento importantissimo di questo fine anno che sarà una mega eclissi nel segno del toro che martedì 8 si eclissierà proprio con la luna piena nel segno del toro che verrà definita luna di sangue. Io di questo video ne parlerò entro oggi e domani, troverete tra l'altro una bellissima descrizione anche sul nuovo canale Astrologia e non solo. L'entrata della luna inoltre avrà a che fare con Venere che sarà quadrata a Saturno che da fino a martedì può aggiungere probabilmente un pizzico di stress nei vostri sentimenti a causa magari di alcune distanze, di ritardi o probabilmente incontri che non avverranno dovuti a dei piccoli particolari e poi avremo questo aspetto che porterà sicuramente questa quadratura tra Venere e Saturno porterà magari una mancanza di armonia nelle proprie relazioni e sarebbe quindi necessario forse passare un po' di tempo da soli, ignorare probabilmente l'effetto di questo cielo così forte che avremo durante queste giornate fare magari uno sforzo in più per cercare di ridurre proprio il rischio di creare dei drammi all'interno delle vostre relazioni. Martedì è il giorno clou, insomma avremo un'eclissi di luna nel sedicesimo grado del toro, sarebbe interessante vedere dove si trova il sedicesimo grado nel vostro cielo astrale, quindi cercate di vedere dov'è il sedicesimo grado del toro. Questo aspetto riguarderà tanto anche l'influenza di Saturno che sarà quadrato a Urano, quindi tutto si allinea con una stella molto simile che è quella di Saturno, quindi Saturno quadrato a Urano con una quadratura anche a questa eclissi di luna particolare perché è una luna di sangue come è stata definita perché il colore sarà appunto rosso e questa eclisse continuerà proprio a rendere le persone probabilmente un po' incerte verso il nostro futuro, aumenterà propriamente il rischio di una situazione di ansia che potreste vivere proprio durante queste giornate. Quindi usate la flessibilità, siate aperti mentalmente, cercate di adattarvi a delle condizioni, soprattutto se il cambiamento sarà molto rapido. Il sole in congiunzione con Mercurio allo stesso giorno, sedicesimo grado dello scorpione, quindi proprio nello stesso grado dell'eclissi, e renderà grazie al cielo un pensiero un po' più aperto, comunicazioni, viaggi, anche di breve distanze saranno molto significativi e questo vi permetterà comunque di interagire a livello personale con persone molto intime. Mi raccomando le conoscenze in questo periodo con internet, forse è arrivato il momento anche di lasciarvi andare e di conoscere qualcuno che in questo momento è un po' lontano da voi. Sempre lo stesso giorno Mercurio però, nel momento in cui creerà una congiunzione con il sole, farà un'opposizione ad Urano e che provoca dei cambiamenti anche a livello comunicativo, ma soprattutto un po' più eccitanti. Ci possono essere delle notizie un po' inaspettate durante queste giornate, di fare molta attenzione magari ad alcuni progetti, di qualcosa che vi state occupando, di fare attenzione magari ai dettagli, a vedere le cose in maniera diversa e questo può portare comunque a delle idee originali e magari a delle nuove scoperte creative, forse a livello lavorativo. Mercoledì 9 novembre è il momento in cui il sole si oppone a Urano, quindi prima abbiamo visto Mercurio che si opponeva a Urano, adesso vediamo il sole che si oppone a Urano. Le opposizioni sono abbastanza forti, devo dire a sincerità, scuotono solitamente il nostro modo di vedere le cose, quindi l'adattamento in queste giornate sarà quello al cambiamento, perché Urano è sempre un rivoluzionario, è sempre un grande cambio quando viene toccato, soprattutto da grandi pianeti come il sole in questo caso. Quindi dobbiamo adattarci ai cambiamenti e questo richiede sicuramente un grande sforzo, uno sforzo che probabilmente poi a un certo punto potrebbe sembrare anche eccitante per alcuni di voi. Sembra quasi che all'inizio i cambiamenti fanno paura, questo è normale, però credo che questo sole in opposizione a Urano porterà e offrirà delle strade nuove, migliori anche, soprattutto a quelle persone che vogliono in qualche modo cambiare aspetti di se stesso. Lo stesso giorno, quindi martedì 9, la Luna entrerà nel segno dei gemelli. Giovedì 10 avremo Mercurio che invece quarrerà Saturno in questo caso, e questo anche è una nuova quadratura verso un lavoro mentale soprattutto, ma probabilmente è meglio in questo momento fare qualsiasi tipo di lavoro da solo, nel senso che le comunicazioni che avranno con i propri colleghi o magari con le persone vicino a voi potrebbero a un certo punto cambiare il piano, qualcuno potrebbe magari pensare di cambiare anche un po' l'avvenimento delle situazioni, però mi raccomando tenetevi le vostre idee per voi, perché qualcuno potrebbe magari cucire sopra alcune realtà che non sono tanto vere, mi raccomando i pensieri negativi in questo momento, se avete bisogno cercate sempre di una consulenza da persone fidate, da persone professionali, soprattutto per quanto riguarda gli affari e questioni legali, non fidatevi delle parole degli altri, fate molta attenzione anche a quello che dite voi. Ecco, grazie al cielo, questa giornata di giovedì, che poi comunque caratterizzerà anche questo fine settimana, sarà Venere che te rifarà un trigono con Nettuno, è una Venere armoniosa in questo caso, anche molto compassionevole, devo dire che però è sovrastata un po' da queste quadrature del Sole, di Mercurio, con Saturno, quindi sì, è vero che una Venere in trigono con Nettuno ci mette davanti ad un impatto leggermente più positivo rispetto a quello che vivremo, però è anche vero che idealizza moltissimo le persone che conosceremo, quindi è possibile che noi intenderemo edelizzare degli amori per quello che non sono e potremo rimanere di conseguenza anche un po' male. Venerdì 11 novembre, quindi iniziamo con il fine settimana, è il Sole che farà una quadratura a Saturno, quindi il Sole, il Signore dello Scorpione, farà una quadratura a Saturno abbastanza forte, questa quadratura provoca delle prove e delle sfide abbastanza importanti che possono conseguire a delle preoccupazioni, devo dire che una settimana anche dovete limitarvi magari a determinati doveri, fine settimana soprattutto, a determinati obblighi e dovere, cercate di non sforzarvi troppo perché potreste perdere la pazienza, soprattutto quando siete determinati responsabili, ma dall'altra parte qualcuno potrebbe uscire un po' fuori dall'etica, mi raccomando cercate di evitare di procrastinare e di essere troppo pessimisti, sempre Venere fa un coincoce con Marte durante questo venerdì che rende comunque venerdì abbastanza emotivo, è bello fare dei confronti con gli amici in questo momento, cercate di amare più voi stessi che gli altri, questo sarà sicuramente più importante. La Luna entra nel segno del cancro, nel suo reggente proprio venerdì, sabato 12 di novembre, Mercurio fa un trigono a Nettuno, conferisce quindi questo transito, uno stile di comunicazione molto più fluido rispetto a quello che abbiamo visto precedentemente, nelle giornate, da sabato e domenica finalmente il cielo prende una dimensione decisamente migliore, devo dire che le comunicazioni saranno maggiormente più sensibili, le vibrazioni saranno decisamente più alte, ma saranno eccellenti durante questo periodo per portare armonia nella vostra vita. Mi raccomando dedicatevi alla poesia, alla musica, alla danza, a ciò che amate come hobby artistico, perché questo sarà veramente un sabato bellissimo. Domenica anche qui abbiamo Venere che fa un bellissimo sestile, quindi un angolo veramente importante con Plutone, ed è veramente bello perché i vostri sentimenti d'amore raggiungeranno un livello molto più intenso, quindi non lasciate nulla al caso, diciamo così, per scoprire i veri sentimenti del vostro partner o del vostro potenziale partner, venere, forse anche con voi stessi, perché saranno possibili anche relazioni che possono iniziare con una storia d'amore molto profonda questo fine settimana. Stesso giorno Mercurio fa un coinconce con Marte, che può causare sicuramente dei momenti molto affrettati di andare subito al sodo, in realtà questo sestile con Plutone di Venere richiede molta più attesa e molta più particolarità, più attenzione in quello che potrebbe essere il vostro amore. Allora, andiamo a vedere come sarà segno per segno. Io sarò molto breve nel messaggio che vi darò, approfondiremo le tematiche, soprattutto quella dell'eclissi, con altri vidi, ma capiremo un po' tutti quanti insieme come sarà questo momento. Allora, iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Questa settimana la tempesta si interrompe e termina poi con un arcobaleno. Allora, la settimana inizia ovviamente con un'entrata con Venere in Scorpione nella vostra casa delle risorse. In quadratura avremo Saturno in Acquario. Quindi devo dire che questa è la settimana dove potete iniziare a incanalare il vostro frugale che è in voi e pensare proprio di tagliare anche un po' con alcune spese. Arriete, questo è un buon momento per fare un inventario di ciò che avete già, di quello che non volete più nella vostra vita, perché è probabile che possiate accontentarvi o forse prendere anche un prestito per ciò che avete bisogno. Quindi questa settimana le azioni hanno sicuramente un senso dal punto di vista finanziario. Da martedì, quando si verificherà l'eclissi di Luna nel segno del Toro e il Sole dello Scorpione si avvicina all'opposizione con Urano, ripensate un po' ad agosto e la grande congiunzione tra Marte, Urano e il nodo Nord. È stato il segnale d'allarme quando avete iniziato a sentirvi un po' inquieti e a dire anche ai vostri amici che era arrivato il momento di cambiare. Ora quel cambiamento sta avvenendo. Il culmine dei piani degli ultimi tre mesi si manifesterà proprio ora, in questa settimana. Quindi, direte, questo potrebbe significare una nuova fonte di reddito, nuovi investimenti o forse l'avvio anche di un'attività improprio. Toro, questa settimana dovreste, troverete anche un certo equilibrio tra il lavoro e il divertimento. La settimana inizia con una venere in Scorpione nella vostra casa delle relazioni in quadratura a Saturno in Acquario. Oggi, da lunedì, scusate, potreste magari avere una conversazione molto importante con il vostro partner, potreste parlare molto della divisione delle responsabilità e di come potete sostenervi a vicenda. Toro, avete anche l'opportunità questa settimana di unirvi ad una squadra di lavoro, una squadra, insomma, vedete un po' quello che frequentate nella vostra vita, perché questa settimana sarebbe bello fare qualcosa che richieda l'impegno di entrambi voi, il vostro partner, le persone vicino a voi, e come per esempio mettere in moto una catena, per esempio, di beneficenza, mi viene da pensare. Martedì 8 di novembre si verificherà un'eclisse lunare nel vostro segno del toro e il sole dello Scorpione si avvicinerà all'opposizione di Urano. Il primo agosto, ricordo, c'è stata una congiunzione tra Marte-Urano e il nodo Nord, che ha segnato un momento di grande cambiamento per voi. Ora il cambiamento comincia a manifestarsi e potreste avere delle alterazioni che riguardano proprio il vostro lavoro o una relazione importante. Toro, è possibile che questa settimana qualcuno che vi piace al lavoro si trasferisca in una nuova mansione, oppure potreste iniziare qualcosa di nuovo o lasciare addirittura il vostro team. Gemeli, questa settimana i venti di cambiamento vi porteranno in una nuova direzione. La settimana inizia con una Venere in Scorpione, nella vostra casa della routine quotidiana, in quadratura, però, a un Saturno in acquario. Questa settimana potreste voltare definitivamente pagina. Forse vi alzerete presto per fare giochi in prima della colazione o forse vi sedete a scrivere un libro o a lavorare su un progetto personale prima di andare al lavoro. Insomma, credo che, Gemeli, questa è una bellissima settimana per chiedere di più a voi stessi e per elevare i vostri standard, per andare avanti con un obiettivo importante. Ricordatevi che martedì 8 di novembre si verificherà un'eclissi lunare in toro e il sole dello Scorpione si avvicinerà all'opposizione con Urano. Come, ripeto sempre, all'inizio di agosto si è verificata una congiunzione tra Marte, Urano e il nodo nord. E' avviato un processo di grande cambiamento per molte persone. Ecco perché potreste aver fatto dei grandi cambiamenti allora, perché tendete ad accogliere i cambiamenti più di altri, ma ora a questo punto si attiva di nuovo e avete anche quindi l'opportunità di continuare a spostare la vostra vita in una direzione. Gemelli, questo potrebbe significare, per esempio, un nuovo lavoro, una nuova routine quotidiana completamente diversa da quella che avevate precedentemente. Per gli amici del cancro, questa settimana abbraccerete ciò che ha davvero un valore per voi. La settimana inizia domenica con lunedì, scusatemi, con una venere in Scorpione e la vostra casa, all'interno della vostra casa dei bambini, della creatività, della positività. In quadratura però con Saturno in acquario. Quindi qualche responsabilità in più potrebbe gravare proprio sulle vostre spalle. Cancro, questo potrebbe avere a che fare soprattutto con i vostri figli, con i figli di qualcun altro, con i vostri animali domestici. Quindi è ora di fare un'agenda dove deve essere messa da parte anche un po' uno spazio per altre persone. Ma non c'è da stupirsi se riuscite a gestire questa situazione con grazia e aplomb. Martedì 8 novembre c'è un'eclissi lunare nel segno del toro e il sole dello Scorpione si avvicina all'opposizione con Urano. In agosto c'è stata una grandissima congiunzione, ne abbiamo parlato tra Marte, Urano e il nodo Nord che ha portato via un grande processo di cambiamento che ora questa energia di cambiamento viene attivata grazie da queste eclissi. Questo è incentrato soprattutto sugli amici o su un gruppo di cui fate parte. Qualcuno di importante potrebbe lasciare il vostro gruppo che potrebbe essere anche un grande dispiacere. Cango potreste dimenticarvi anche di una posizione nel consiglio magari di un'azienda o qualcosa di grande che stavate pensando e ora quindi la dinamica interna che si crea all'interno della vostra vita quotidiana soprattutto nel lavoro sarà completamente diversa. Attenzione agli amori, soprattutto quelli che nascono nei gruppi sociali. Leone, questa settimana alcuni sforzi porteranno delle grandi ricompense. La settimana inizia con una venere scorpione nella vostra casa delle vostre radici che farà però una quadratura con Saturno in acquario. Quindi questa settimana potreste concentrarvi sulle riparazioni domestiche, cambi della casa, aggiustare qualcosa di importante. Potrebbe trattarsi di qualcosa che necessitava di un intervento da molto tempo ma che ora sta diventando necessario. Per questo state accogliendo dei consigli, state cercando di trovare qualcosa per risolvere questa grande questione. Tutto questo si risolve molto più facilmente del previsto. Martedì 8 novembre si verifica un'eclista lunare in toro e il sole dello scorpione si avvicina all'opposizione con Urano. Pensate a quello che è successo ad agosto di quest'anno quando c'è stata una grande congiunzione tra Marte-Urano e il nodo nord che ha segnato proprio un grande cambiamento. Leone, probabilmente avete delle idee sulle modifiche che volete apportare o dei cambi all'interno della vostra vita che possono riguardare degli spostamenti di casa, di paese, di città. Insomma, cercate di incanalare proprio questa vostra strada perché potrebbero esserci dei cambiamenti anche a livello lavorativo che riguardano la vostra posizione, il vostro referente. Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, l'opportunità è molto vicina. Questa settimana per gli amici della Vergine si va verso giorni decisamente migliori. La settimana inizia con una venere in scorpione nella vostra casa delle comunicazioni, inqualatura a Saturno in acquario. Potreste esaminare un nuovo contratto, un nuovo documento importante. Potreste analizzare magari dettagli o proporre un'aggiunta. Potreste anche scrivere i termini e le condizioni del vostro contratto preferito o anche di un sito web, di qualcosa che riguarda anche l'online. E' un buon momento per sbrigare pratiche burocratiche, compilare domande o fare cose che richiedono molta concentrazione. Martedì 8 novembre si verificherà un'eclissi lunare in Toro e il Sole nello Scorpione si avvicinerà all'opposizione con Urano. dagli inizi di agosto, quando si è verificata una congiunzione tra Marte-Urano e il nodo Nord, con grandi cambiamenti, è possibile che la vostra vita sia cambiata molto negli ultimi due mesi. Gli altri potrebbero aver notato che sembrate molto più sicuri di voi stessi e anche pronti a prendere il comando su una situazione. Ora potete aggiornare il vostro profilo, il vostro curriculum, la vostra biografia in modo che rifletta non solo chi siete ma anche chi state diventando. Amici della bilancia, questa settimana farete dei passi avanti verso la sicurezza e anche la prosperità. La settimana inizia con una venere in Scorpione nella vostra casa del denaro. sarà inquadratura a Saturno in acquario, quindi bilancia. Forse siete bravi con i soldi, ma questa settimana sarete dei maestri della frugalità, quindi potreste rammentare veramente ciò che volete in questo preciso momento per portare un livello di professionalità decisamente più alta. Mi raccomando, se volete diversificare le vostre entrate, questa è la settimana ideale. Da martedì 8 novembre si verificherà poi un'eclissi di luna in toro e il sole nello Scorpione si avvicinerà all'opposizione di Urano. Ricordatevi nei primi giorni di agosto, quando abbiamo avuto questa grande congiunzione tra Marte-Urano e il nodo Nord, questo era il segnale che ci sarebbero stati dei cambiamenti nella vostra vita finanziaria. Quindi bilancia, un influsso di entrate in via di sviluppo potrebbero finalmente iniziare a dare dei frutti. È possibile che abbiate lavorato diligentemente alla creazione di nuovi contenuti, alla costruzione di qualcosa. Quindi devo dire che questo è un momento dove potete iniziare a vedere i vostri profitti. Amici dello Scorpione, questa settimana dovete parlare di argomenti importanti. La settimana inizia con una venere nel vostro segno, sole nel vostro segno, quindi tantissimi auguri agli amici dello Scorpione che faranno però una quadratura a Saturno in Urano, nella vostra casa delle abitazioni, della vostra vita personale. Quindi Scorpione potreste avere il difficile compito di dover affrontare delle discussioni importanti con qualcuno all'interno della vostra famiglia, forse anche dei figli o qualcuno che sta vicino a voi. State quindi facendo dei passi molto responsabili, anche se sarà difficile affrontare determinati argomenti, ma alla fine è meglio così. L'8 di novembre c'è un'eclissi nel toro, un'eclissi lunare nel segno del toro. Il sole nello Scorpione si avvicina proprio a un'opposizione con Urano e potrebbero verificarsi quei cambiamenti importanti in una relazione della vostra vita iniziati proprio in agosto con la congiunzione tra Marte-Urano e il nodo Nord. Se questo legame è stato fragile, se questa energia potrebbe portare magari ad un disaccordo che si crea tra di voi, questo potrebbero essere giornate dove si conclude una relazione che ormai non vi appartiene. Ma se sarete pazienti ed ascolterete, quindi perché questa relazione deve andare avanti, troverete comunque la forza per rafforzare questo tipo di rapporto. Amici del Sagittario, questa settimana riceverete messaggi da molte fonti. Devo dire che questo è un periodo molto importante per gli amici del Sagittario. State vivendo delle grandissime opportunità per moltissimi di voi e questo sarà sicuramente un momento importante. La settimana inizia con una venere in scorpione, la vostra casa della solitudine, la famosa dodicesima casa del karma, inquadratura a Saturno in acquario, quindi potreste avere qualcosa di importante da portare a termine che richiede anche un po' di tempo per stare da soli. Questo è un buon momento per silenziarvi, per iniziare a pensare quali potranno essere i grandi cambi che stanno arrivando nella vostra vita. Proprio questa settimana, l'8 di novembre, avremo un'eclissi in toro e il sole anche nel segno dello scorpione che si avvicina ad un'opposizione con urano. Questa attiva molto l'energia del cambiamento che è già iniziato ad agosto, quindi ricordatevi un po' quell'energia forte di grande cambiamento che avete vissuto tra fine luglio ed agosto, quando proprio c'è stata la grande congiunzione tra Marte, urano e il nodo nord. Ecco, potrebbero esserci dei cambiamenti proprio nel vostro tipo di vita, stile di vita, anche forse lavorativo. Ed è possibile che il vostro dovere, il vostro tempo libero in questa settimana potrebbe essere molto inferiore rispetto al soldo. Quindi concentratevi, concentratevi tanto perché questa è una settimana, io la chiamo di lancio, perché è come se vi lanciate verso una nuova dimensione. Quindi ogni tanto è bene accettare i cambiamenti e fare anche qualcosa di diverso. Se c'è qualcuno che può farlo insieme a voi, sarà ancora meglio. Amici del Capricorno, questa settimana potreste, diciamo, un po' esagerare con la gioia, perché la settimana inizia con un avvenire in scorpione nella vostra casa della comunità, in qualatura a Saturne in acquario, voi sarete molto più consapevoli di chi siete, avrete l'occasione di trascorrere molto del tempo con dei vecchi amici, riunirvi con delle persone intorno a voi per sostenere magari una causa. Tra l'altro, questa è la settimana dove dimostrerete proprio il vostro spirito comunitario, vi affronterete anche delle battaglie molto importanti, vi viene da pensare sul lavoro o con degli amici. Martedì 8 novembre ci sarà un'eclissi lunare nel segno del toro e il sole dello scorpione si avvicinarà all'opposizione proprio con Urano, questo attiva l'energia di cambiamento iniziata proprio all'inizio di agosto con la congiunzione tra Marte-Urano e il nodo nord. Bello perché una nuova relazione amorosa potrebbe nascere durante queste giornate, ci potrebbe essere un bellissimo colpo di fulmino, improvvisamente vi troverete in una situazione romantica, messaggi tutti i giorni, passerete delle serate insieme, ecco questo è proprio quello di cui avevate veramente bisogno in questo momento, trascorrere del tempo con una persona amata e soprattutto vivere l'ora e l'istante in questo preciso istante, quindi Capricorno ora potreste avere veramente una mente unica. Acquario, questa settimana potreste essere il destinatario di molti elogi, ve lo dico perché è una settimana in cui avremo venere scorpione nella casa della carriera con quadratura Saturno che è nel vostro segno. Quindi proprio questa settimana riceverete grandissimi e importanti riconoscimenti, quindi potranno trattarsi magari di nuovi accordi, di nuovi collochi di lavoro, anche un buon momento per fare rete sociale insieme ad altre persone. Martedì 8 novembre si verificherà un'eclissi lunare nel segno del toro, il sole nello scorpione si avvicinerà proprio a una posizione con Urano, tutta questa grande energia in quadratura non fa altro che attivare quella famosa congiunzione che abbiamo avuto ad agosto tra Marte e Urano e il nodo nord, quindi Acquario è arrivato il momento di rinnovare, rinnovare non soltanto vuoi, mi viene da ridere perché due mie amici dell'Acquario proprio questa settimana mi hanno chiamato per dei consigli sul Feng Shui, della loro casa. Ecco quindi concentratevi su proprio questo mondo perché secondo me è arrivato il momento di cambiare un po' le proprie energie, di iniziare ad incoraggiare, ad usare il proprio talento, soprattutto per i progetti secondari, quindi eliminare tutto quello che non vi appartiene più perché questa è la settimana dove grandi cambiamenti partono innanzitutto dal corpo della casa e poi esternamente in bocca al lupo perché sarà una settimana molto importante per voi. Amici dei pesci, questa settimana ciò che guadagnerete ora potrebbe servirvi per tutta la vita perché questa è la settimana dove venere in Scorpione nella vostra casa della conoscenza e della comprensione e fare una quadratura con Saturno in Acquario, quindi è possibile che abbiate qualcosa da consegnare, iscrivervi all'università, preparare un esame, iniziare un corso che vi può cambiare completamente la vita, qualsiasi cosa, anche di lingue, di informatica, qualsiasi cosa. Forse è arrivato il momento di imparare una nuova abilità, è arrivato veramente il momento di costruire qualcosa di solido per il vostro futuro se avete le capacità, soprattutto cercatevi di concentrarvi e di perseverare fino alla fine. Martedì 8 di novembre si verificherà un'eclissi lunare nel segno del toro e il sole nello Scorpione si avvicinerà all'opposizione di Urano, questo attiva tantissimo quell'energia di cambiamento che avevamo già visto all'inizio di agosto con la congiunzione Marte-Urano e Nodo Nord. Ultimamente devo dire che le vostre giornate sembrano confondersi con un unico lungo tratto, quindi è tempo di cambiare pesci, no? È arrivato il momento di iniziare a guardarvi intorno, avete bisogno di un segno affinché le cose iniziano a raggiungere un nuovo obiettivo. Ecco, prefissatevi degli obiettivi in questo momento, perché bisogna cambiare traiettoria e questa settimana la vostra vita vi chiede proprio di concentrarvi ogni giorno su un obiettivo importante. Adesso io vi chiedo se voi avete questi obiettivi. Ecco, questa è la settimana dove iniziare proprio a scrivere gli obiettivi, ovviamente fattibili, ma anche i vostri sogni, perché no? E seguirli fino in fondo. Io vi auguro una fantastica settimana a tutti quanti, noi ci sentiremo alla prossima, un abbraccio.